il campionato in questa maniera anche perché tutto l'anno hanno dimostrato di essere un gruppo caratterialmente forte con gli attributi e stasera volevano fare una prestazione importante al di là di come andava il risultato l'hanno fatta e siamo tutti contentissimi perché hanno dimostrato comunque che hanno fatto una stagione stupenda grande merito loro sono otto mesi che queste ragazze fanno a mille all'ora tutto in palestra con una professionalità e un impegno magnifico e quindi chiunque abbia visto quello che fanno in palestra non poteva dubitare che stasera avrebbero fatto una grande prestazione ma sì, adesso noi abbiamo messo in discussione questa serie e sicuramente andremo lì per giocarci le nostre carte non sicuramente per regalare la partita